METEO PAZZO METEO PAZZO Di fatto sono pronti gli impianti dei Sibillini ad accogliere gli amanti della montagna proprio nel prossimo weekend. Il maltempo però terrà ancora sotto la sua tenaglia la regione Marche, in particolare attenzione ai temporali per la giornata di domani sabato. Ma facciamo il punto nel prossimo servizio. Se marzo è pazzo, come dice il nota d'agio che descrive l'instabilità del meteo nel mese d'ingresso della primavera, aprile non scherza mica. Nel giro di poche ore siamo passati dalle prime tintarelle a programmare un weekend sugli sci. Sui Sibillini sono pronte le stazioni di Frontignano di Ussita e Pintura di Bolognola, dove la neve è caduta come mai in questo inverno senza freddo. La stranezza non è la neve a metà aprile, dice il climatologo Fazzini, ma è il caldo delle scorse settimane. In questi giorni l'intera pensione italiana è sotto legge di correnti settentrionali di origini polare che stanno apportando effettivamente un tempo più simile di fine inverno che di metà primavera. In realtà la primavera è stagione di forti estremizzazioni metoclimatiche che quest'anno, vuoi il nino, vuoi questo global warming in atto, sono ancora più estreme. Dunque, se da una parte climatologicamente è normale avere nevicate fino a quote relativamente bassi in Appennino, piuttosto che venti piuttosto forti da nord, piuttosto che temperature di qualche grado sotto la media, non è paradossalmente stato normale che fino alla settimana scorsa avessimo delle condizioni di scarso o assoluta mancanza di neve sugli Appennini e soprattutto temperature abnormemente elevate. In questo momento la situazione dell'innevamento che abbiamo è del tutto plausibile con il periodo. Stando alle previsioni meteo, pioggia e freddo insisteranno ancora sulle marche, almeno fino alla giornata di domenica, attesi in particolare temporali per il pomeriggio di sabato. Ancora per quanto riguarda la cronaca, sanzioni amministrative ammende per 50 mila euro, 5 titolari di imprese denunciati per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 10 prescrizioni, il bilancio di una serie di controlli condotti dai carabinieri dell'ispettorato del lavoro di macerate e da personale dello stesso ispettorato territoriale in un grande cantiere nel territorio di Civita Nova Marche dove sono impegnate più imprese. Particolare attenzione è stata apposta per ciò che attiene alla normativa relativa alla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, l'installazione dei ponteggi, l'apertura nei solai, omesse, installazione dei parapetti, violazione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, in generale verifica della documentazione della materia di sicurezza delle ditte operanti. Dunque andiamo alla baraccola di Ancona, salta un altro sportello, Bancomat. Dopo l'episodio di lunedì scorso un altro boato nella notte si profila l'ipotesi di una banda. Sentiamo Giacomo Giampieri. Un boato intorno alle 3 del 19 aprile in una filiale inaugurata appena sei mesi fa all'interno del palazzo in cui trova a casa anche la Confartigianato, lo sportello che salta per poi accedere nel cuore della banca una volta affrantumato il vetro antisfondamento. Un nuovo colpo messo a segno ad Ancona in zona baraccola in appena 15 minuti. Lo scenario come potete vedere alle mie spalle è quello di un assalto alla filiale di Credit Agricole. Ci troviamo nella banca tra via Fioretti e via Umani e si fa largo l'ipotesi di una banda che starebbe agendo proprio con colpi e raid di questo tipo. Non a caso infatti pochi giorni fa era toccato alla banca etica dove in quel caso i ladri non erano riusciti a portare via un grande quantitativo di danaro proprio perché durante l'esplosione le banconote erano andate in cenere. Stavolta invece il bottino ci sarebbe, si stanno individuando, si sta cercando di individuare tre persone che hanno agito a volto coperto ma appunto che dopo l'esplosione con la cosiddetta tecnica della marmotta sarebbero riuscite a portare via dei soldi. Dopo l'allarme sono prontamente intervenuti i carabinieri di Ancona che nel più stretto riservo stanno portando avanti le indagini. La filiale è rimasta chiusa nel corso della giornata in conseguenza degli ingenti danni subiti. Non è stato ancora quantificato il bottino portato via dai malviventi. Ed ora Iesi torniamo a parlare della vicenda in cui alcune pazienti con problemi psichiatrici avrebbero subito degli abusi. Due i coniugi finiti nel mirino ora sono ai domiciliari ma respingono le accuse. Il servizio di Laura Mera sentiamo. Franco Frantellizzi e Dinamo Gianesi, i due coniugi che gestivano insieme la casa di accoglienza di via del Versiere a Iesi, respingono ogni accusa. Lo fanno tramite la loro legale Alessia Barcaglioni che prima di fornire ulteriori dichiarazioni aspetta di visionare le oltre 600 pagine del fascicolo di indagine. I due, lui 86 anni, lei 78, sono accusati di maltrattamenti, lui anche di violenza sessuale aggravata per una serie di fatti commessi nell'ultimo anno a danno delle donne che vivevano in quella casa. Non una struttura di accoglienza in realtà, bensì un esperimento di co-housing per donne affette da problemi psichiatrici. Un appartamento regolarmente pagato e preso in affitto dai tutori legali delle pazienti. Secondo l'accusa moglie e marito, sulla carta a semplici volontari sarebbero stati di fatto in realtà i gestori dell'appartamento decidendo su ogni aspetto della vita delle donne. Pazienti costrette a vivere senza cibo, riscaldamento, chiuse a chiave di notte, sottoposte a punizioni corporali e infine sottoposte a violenze e abusi da parte di lui. Tutto nasce dalla segnalazione di una paziente, da lì le telecamere e i microfoni piazzati all'interno dell'appartamento. Poi lo scorso 15 aprile il blitz della polizia. Frantellizzi viene tratto in arresto in flagranza di reato per violenza sessuale aggravata. La moglie viene arrestata due giorni dopo con l'accusa di maltrattamenti aggravati in concorso col marito e lesioni aggravate. Entrambi, dopo la convalida, si trovano ora ai domiciliari. Lei è in attesa di essere sottoposta a interrogatorio di garanzia. Nell'inchiesta, coordinata dal PM Andrea Laurino, è indagata a piede libero anche la figlia della coppia che faceva la badante in quell'appartamento. La donna è accusata di maltrattamenti in concorso morale. Secondo l'accusa, lei sapeva tutto, ma ha preferito non parlare. Ed ora torniamo a parlare invece del sisma del 9 novembre del 2022. Martedì ci sarà un passaggio in Senato per quanto riguarda il DL approvato la scorsa settimana. Poi occorreranno sei mesi per completare la ricognizione dei danni. Il punto nel prossimo servizio. Vediamo. Un ordine del giorno di dignità. Perché con questo ordine del giorno si chiede di stanziare le risorse necessarie a ripristinare gli immobili danneggiati dal sisma del 2022, dati protezione civile, ha prodotto oltre 500 sfollati e oltre 1000 edifici lesionati. Ma onestamente questa emergenza, mi lasci dire Presidente, che ha assunto un carattere surreale fin dal suo inizio. Perché la Regione Marche ha messo due settimane solo per richiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri ha impiegato 5 mesi per dichiarare lo stato di emergenza. E si è arrivati alla nomina del commissario straordinario, ripeto, per l'emergenza, con 7 mesi di ritardo. Approvato l'ordine del giorno del parlamentare marchigiano Augusto Curti per stanziamenti e ricostruzione dopo il terremoto di Ancona del 9 novembre 2022. Dopo mesi di attese e proteste da parte dei cittadini, lo scorso 12 aprile la Commissione Bilancio della Camera aveva approvato un emendamento per appunto il terremoto di Ancona e quello di Umbertide in Umbria del 9 marzo 2023. Ad occuparsi della ricostruzione sarà la struttura commissariale Sisma 2016. Martedì è previsto il passaggio in Senato per l'approvazione definitiva del DL. Noi stiamo già pronti con l'ufficio speciale della ricostruzione Marche e con quello dell'Umbria per la parte di Umbertide e Pierantonio a iniziare subito le attività di rilevazione del danno. Noi abbiamo all'interno dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei tecnici abilitati a sviluppare le cosiddette AEDES, che sono le schede, da cui nel termine di sei mesi io dovrò dedurre il costo complessivo dell'intervento di ricostruzione di Ancona e Umbertide. Quindi noi saremo in grado fra sei mesi di poter consentire a tutti i terremotati di poter presentare il progetto. Nel frattempo però le regole della ricostruzione sono quelle del 2016, quindi i tecnici, i progettisti possono cominciare a lavorare, perché al di là del fatto che non è ancora presente la copertura finanziaria, sono presenti tutte le regole per poter organizzarsi nell'ufficio tecnico e cominciare a depositare i progetti. E restiamo in tema parlando della transizione digitale che potrà contribuire a migliorare la gestione delle emergenze ed anche se il rischio zero non esiste si può fare molto per migliorare tutte le fasi che riguardano il rischio. È la sintesi che emerge dalla mattinata organizzata da Lanci Marche, quindi dai comuni e dall'Università Politecnica delle Marche. Sentiamo Giulia Boschi. La transizione digitale come strumento di gestione delle emergenze è stato il tema al centro dell'evento organizzato da Lanci Marche, Università Politecnica delle Marche, con il patrocino degli ordini professionali tecnici ospitato nell'aulamagna della Facoltà di Agraria. Un legame da implementare per ottenere una risposta più efficace ed efficiente grazie all'adozione dei più moderni aggiornamenti tecnici. Gli argomenti sviluppati nel corso della mattinata vertevano sulle quattro attività in cui si articola la gestione del rischio nel paese, previsione, prevenzione, emergenza, post-emergenza e ricostruzione. Noi stiamo vivendo un periodo importante di transizione, una transizione digitale con la disponibilità di strumenti che consentono di prevedere alcuni aspetti e di migliorare la gestione dei processi. Abbiamo fatto delle esperienze all'interno di questo Ateneo e vediamo importante la necessità di condividere queste esperienze con coloro che sono chiamati a gestire il territorio. La nostra cultura è una cultura che purtroppo è molto incentrata sulla fase emergenziale. L'attenzione che stiamo ponendo in questo momento invece è soprattutto spinta sulla fase della previsione e della prevenzione perché è questo che consente intanto di salvare le vite umane e poi anche di evitare danni per il territorio. In videocollegamento all'evento anche Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento di Protezione Civile. Gli interventi di accademici in programma hanno consentito di ampliare la conoscenza sugli strumenti utili per comunicare le situazioni di rischio potenziale o in atto tra gli operatori del sistema di protezione civile e tra questi la popolazione avvalendosi di strumenti tecnologicamente evoluti. Il problema centrale nella gestione dell'emergenza, uno dei problemi centrali nella gestione dell'emergenza è la comunicazione e in emergenza si ha questa situazione complicata perché da un lato c'è mancanza di informazione saliente necessaria e dall'altro c'è invece un'abbondanza di informazione a contorno di rumore. E quello che stiamo sviluppando come temi di ricerca al momento è l'applicazione delle nuove tecnologie della comunicazione ai processi di comunicazione dell'emergenza sia in termini tecnici sia in termini di dialogo con la comunità, con la popolazione. Torna la fiera di San Ciriaca d'Ancona dal 1 al 4 maggio le novità di quest'anno. Vediamo. Per Ancona la manifestazione è simbolo, per tradizione, religione e cultura. È la fiera di San Ciriaco che nel 2024 si allarga nel periodo, un giorno in più, dal 30 aprile al 5 maggio, negli intrattenimenti e nelle aree tematiche e per l'esposizione nei luoghi più iconici della città. Il percorso Mare Mare è stato potenziato appunto con Piazza Cavour, con la campionare che verrà fatta in Piazza Cavour, con la pinettina, con le giostre al passetto e quindi sarà una fiera piena, importante e molto grande. La fiera di San Ciriaco aumenta nei numeri e nelle richieste soprattutto e quindi questo ci fa molto orgogliosi e soprattutto va a sottolineare l'importanza della fiera in ambito regionale e in ambito nazionale. Tra gli appuntamenti da segnare in calendario la Santa Messa del Patrono che il 4 maggio alle 17.30 sarà celebrata in Duomo. Alle 19 invece la novità della consegna delle civiche benemerenze in Piazza del Papa. Lo facciamo soprattutto perché poi ci sono delle celebrazioni religiose precedentemente, lo vogliamo con un maggior coinvolgimento possibile, lo facciamo in una piazza storica della città e daremo così in qualche modo un segno alla città che è la manifestazione la più diffusa possibile. Lo start il 30 aprile con lo street food in piazza Pertini e ancora la tombola di San Ciriaco organizzata dalla Croce Gialla che si svolgerà sabato 4 maggio alle 19 in piazza Diaz. Al passetto uno spazio con le giostre dedicato ai più piccoli, sempre in piazza del Papa. Invece domenica 5 maggio alle 18.30 il concerto dà le sonorità funk e jazz con Danny Losito e Chico a lotta. In aumento la presenza di ambulanti ed espositori. Confermato il sistema di navette e parcheggi scambiatori, informazioni sui siti di Blue Nautilus e Comune di Ancona. Al resto si guarda il meteo, spesso incerto nei giorni di fiera e allora che Ceriago faccia il miracolo. Speriamo che ci sia naturalmente bel tempo, che ci siano giorni di spensieratezze ma soprattutto di sole. Questo ciò lo auguriamo. Ed ora parliamo di autismo. Al centro orizzonte di Macerata i laboratori con i cani per i piccoli frequentanti. Così si sviluppano interazione e socialità. Il servizio di Roberto Properzi. Vediamo. Fare petterapie non è solo vivere con l'animale ma si crea, si instaura proprio un rapporto tra l'animale e il bambino e l'adulto. Tutto ciò mediato tramite la figura del professionista. Continuano a Macerata presso il centro orizzonte i laboratori gratuiti dell'iniziativa. Un mese per l'autismo aperti a tutta la comunità. Con le nostre telecamere abbiamo documentato un laboratorio con protagonisti Ercole, amico a quattro zampe, e cinque bambini che frequentano il centro. Con la petterapie si favorisce l'interazione sociale, quindi l'utilizzo del linguaggio e l'intenzionalità comunicativa. Il bambino risulta più motivato nello svolgere varie attività. Inoltre si ha un miglioramento del benessere e una diminuzione dello stress. Dunque nei bambini si assiste ad una apertura nelle relazioni e soprattutto sono più felici. Spesso troviamo anche bambini che hanno anche difficoltà nel relazionarsi o nell'avvicinarsi semplicemente al cane. Anche dopo una semplice ora o tre quarti in gruppo vediamo che questi bambini piano piano appunto si avvicinano, sono molto curiosi. Io inserisco spesso anche le attività quali la preparazione del setting, quindi ciotole, acqua per sviluppare l'autonomia. Loro anche magari al lavoratore successivo sono molto più preparati, svolgono le attività in maniera autonoma. E quindi Ercole ha stimolato nei bambini tanti sorrisi aiutando la socializzazione. La terapista del centro orizzonte chiude sottolineando che la petterapie non è solo un gioco ma molto altro. Quello che adesso stiamo svolgendo sono tutte le attività semplici e ludiche in cui si lavora più per il benessere del cane, il gioco, però è un mondo molto ampio. Il cane può essere appunto, il cane oppure altri animali possono essere appunto impiegati nella terapia o in altre educative, proprio per l'aiuto di un bambino o di un adulto. Ed ora un'informazione di servizio. Lavori lungo la tratta ferroviaria Civitanova Marche, Macerata, Albacina, esattamente tra Morrovalle e Corridonia dal 24 al 29 di aprile. Gli interventi riguardano in particolare la sostituzione di un ponte ferroviario in acciaio, risalente a fine ottocento, uno dei più caratteristici dell'intera infrastruttura ferroviaria nazionale. Per consentire l'operatività dei cantieri la circolazione ferroviaria sarà cancellata tra Macerata e Civitanova Marche dalle ore 22 di mercoledì 24 aprile fino alle 4 di lunedì 29. Previste corse con bus con numero di posti disponibili inferiore rispetto al treno e tempi di percorrenza maggiori in relazione anche al traffico stradale. E questa era la nostra ultima news, io per il momento mi fermo qui, vi ricordo che trovate le nostre notizie sempre aggiornate anche sul sito www.tvmarche.it, ovviamente c'è anche la nostra app attraverso cui consultare tutte le nostre video news e ovviamente seguiteci anche sui social. Grazie ancora per essere stati con noi e buon weekend. Grazie a tutti.